Bella a tutti i dragoni, qui è Nico Forza e siamo in un nuovo video. Oggi ero qui in ospedale perché dovevo fare un controllo che si fa dopo un anno dallo stop delle terapie. Purtroppo questo controllo non è andato benissimo, c'è qualcosa che non va. Perciò bisogna approfondire questo fattore che possiamo chiamare negativo. Mi ritrovo qui nello stesso letto dove è iniziato tutto, dove è iniziato il mio canale YouTube, dove è iniziata questa battaglia, questa avventura. Io non mondo mai. Ciao a tutti. Spero di darvi notizie migliori al più presto. Ciao a tutti.